Maggiaci, che strumento è questo? Questo? Sì! Questo è un balafon, uno dei più antichi strumenti che ha costruito l'uomo. È per me? È per te. Grazie. Maggiaci, tu dove trovi l'ispirazione? Dalle montagne. Le montagne fanno musica. La più bella, la stessa essenza della musica, contiene la tredicesima nota, la melodia assoluta, dove tutto è inscindibile, il bene, il male, la nascita, la morte. Per ascoltarla, però, devi fare silenzio. Posso provare anch'io? Cuomo呢? Puoi provare? La montagna è fantasia. Quando spira un certo vento e ti concentri e ascolti, sento quasi delle emozioni, dei messaggi, delle voci. In quel vento, in quelle arie. In questi rumori di torrenti, di ruscelli, in quei silenzi sospesi prurica un'antica vita. La vita misteriosa dei ricordi. Degli amici scomparsi, degli andanti passati, delle anime nel cielo. Ti sei mai chiesto cosa avrà visto un albero in 500 anni? Mellegrini, boscaioli, pastori dannati, forse omicidi, gesti d'amore, carezzi, dolore. Mi piacerebbe sentire cosa ha da raccontare un albero. Ma per farlo, dovrà imparare a sederti ai suoi piedi. Camminerai tra beti e cime spoglie, Chiese e vinai e chiaccio che si scioglie e ti perderai. Tra prati e antiche soglie, fiumi e nevai, E vento tra le foglie. Ar e o, nanonanam na, nanainanam na, Ar e o, nanonan, tanainanam na, Aria, 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 aria. Aria, 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 aria. Aria, 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 aria.